Un 2016 complesso è attraversato anche da fatti di cronaca che hanno scosso l'opinione pubblica come l'omicidio dell'ottantenne dato alle fiamme da una banda di ragazzi. Nel fare gli auguri alla città per il Natale e per l'arrivo del nuovo anno, Monsignor Pappalardo, l'arcivescovo di Siracusa, analizza l'idea di famiglia e delle sue ferite sociali. Io credo che nella famiglia, o meglio la famiglia, abbia un ruolo particolarissimo, quello della formazione dei giovani, perché proprio lì si apprendono le prime nozioni e noi ci auguriamo che tutte le famiglie possano svolgere al meglio questa loro missione. Il Papa lo sottolinea, c'è una dimensione domestica della non violenza, una dimensione domestica della gioia, dell'amore che deve riempire il nostro cuore perché poi possa propagarsi anche nella società.